Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo evento della serie MediaTouch Webinar Series nei quali presentiamo soluzioni verticali che personalizzano Moodle a seconda di quelle che sono le esigenze sia normative sia legislative ma anche che assecondano casi d'uso. Oggi in particolare presentiamo un componente aggiuntivo per la piattaforma Moodle che soddisfa l'esigenza del cosiddetto corso ad orario, ovvero sia la possibilità di fare in modo che gli utenti, gli iscritti al corso, possano accedere solo in specifici orari ad esempio a un lavoro lavorativo, non nei weekend, saltare i festivi e cose del genere. Naturalmente la funzionalità è molto vasta, ci sono anche altre caratteristiche che permettono di personalizzare in modo molto granulare la funzionalità e sebbene questa sia una funzionalità che è un po' opposta al concetto del sempre e ovunque della formazione a distanza, del learning on demand, in realtà il mercato ha bisogno anche per caratteristiche legislative o comunque per normative di supportare questa funzionalità. è conosce Marco Scarpa che ha ideato e messo a punto questo sistema che vi farà vedere e aggiungo che questo sistema è stato sviluppato e testato anche grazie a StarT e spero che sia presente, StarT è un nostro partner da tantissimi anni con il quale abbiamo messo a punto non solo le caratteristiche ma anche poi il test e le funzionalità che oggi ci consentono di presentare questa nuova caratteristica. e quindi grazie a Marco di StarT e a tutto il suo team. Detto questo mi taccio, vi ringrazio di essere presenti a questo nuovo evento e lascio la parola a Marco per illustrarvi il funzionamento del nuovo componente. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Allora, come accennava Andrea, questo componente aggiuntivo appunto andrà a definire la formazione appunto programmata ed efficace all'interno di Moodle e Totara per permettere appunto l'accesso in date e orari definiti all'interno di uno specifico corso. In particolare perché questo tipo di restrizione di accesso al corso? All'interno di Moodle, come sapete, ci sono presenti diverse restrizioni di accesso per quello che sono le attività mentre per quello che è l'accesso a una data specifica all'interno del corso questo non è possibile. Questo significa che noi normalmente quando siamo iscritti a un corso possiamo tendenzialmente eseguire tutte le attività che troviamo all'interno dove loro eventualmente hanno delle specifiche restrizioni basate su date definite quindi diciamo dal giorno X al giorno Y ma non è possibile definire una sorta di finestra di apertura magari con una programmazione settimanale. difatti all'interno anche di Moodle stesso la data di inizio e di fine corso tendenzialmente non tendenzialmente eseguita e nativamente sono solo indicative non sono restrittive. Cosa succede? Che nella formazione finanziata invece spesso accade che la fruizione di un corso deve avvenire in orari di lavoro questo perché appunto come diceva Andrea la normativa prevede che non possa essere fatto al di fuori dell'orario di lavoro altrimenti non è rimane conteggiato come straordinario. Di conseguenza cosa mettiamo a punto? Mettiamo a punto un sistema che ci permette di definire attraverso le date di inizio e di fine corso una finestra di apertura e trasformando appunto queste date da informative a restrittive. Questo significa che se noi apriamo il corso il primo di settembre lo chiudiamo il primo di dicembre potremo accedere solo ed esclusivamente in questa finestra di date. Il componente è stato pensato per essere granulare come diceva Andrea e quindi permettere delle casistiche miste e quindi dire voglio utilizzare le date di apertura e di chiusura corso oppure potrei anche dire non voglio utilizzare le date di apertura e di chiusura corso ma voglio utilizzare invece l'utilizzo dell'orario giornaliero quindi definendo su base settimanale gli orari che mi permettono di accedere il lunedì dalle 9 alle 12 il martedì dalle 8 alle 18 il mercoledì dalle 11 alle 17 il giovedì impostare anche un'eventuale pausa pranzo quindi definire l'accesso ad orari dalle 9 di mattina alle 13 dopodiché effettuare una pausa dalle 13 alle 14 e dopodiché dalle 14 alle 18 permettere nuovamente l'accesso al corso. Come dicevo questo può essere configurato in AND o OR cioè in questa maniera tenendo conto sia dell'apertura e della chiusura delle date del corso e alla stessa maniera tenendo conto dell'orario giornaliero oppure diciamo di escludere l'una all'altra c'è la possibilità di utilizzare anche un calendario delle festività nazionali su base nazionale quindi il concetto diventa anche se voi avete un corso che state facendo fruire alla Francia potete definire il calendario francese quindi tenere conto di quelle che sono le date di festività per quello che riguarda appunto la Francia stessa. In ultima diciamo che è anche possibile definire un orario differenziato basato sui gruppi dei corsi questo è utilissimo qualora ci siano delle realtà che hanno una turnazione del personale e quindi definire che il gruppo A accede dalle 8 di mattina alle 12 il gruppo B accede sempre il lunedì dalle 16 alle 20 e così via quindi diciamo che abbiamo un ventaglio di possibilità su quelle che sono le turnazioni e l'accesso ad orari molto granulare cosa succede quando siamo al di fuori dell'orario di accesso veniamo indirizzati verso una pagina di attesa una pagina diciamo di cortesia dove fondamentalmente poi vengono elencati gli orari di accesso e quindi l'orario di apertura e di chiusura del corso indicando appunto l'orario settimanale le eventuali festività nazionali e anche chiaramente l'apertura e la chiusura eventuale del corso quando si è invece all'interno del corso stesso e quindi si sta fruendo in una finestra temporale permessa del corso è sempre presente comunque un messaggio che ci avvisa della situazione della nostra sessione di corso e quindi ci dice che oggi il corso è disponibile dalle 9 alle 12 e quindi in questa sessione ci rimangono ancora un'ora 46 minuti e 17 secondi cosa succede al termine allo scadere di quest'ora e 46 minuti si viene reindirizzati nella pagina di cortesia quindi diciamo che quando ora una persona stia leggendo un pdf stia facendo comunque un'attività allo scadere l'utente viene spostato all'interno della pagina di cortesia ora chiaramente ve lo farò vedere live e quindi diciamo gli andremo a vedere anche la semplicità d'uso di questo strumento e appunto l'efficacia dello strumento noi siamo in questo momento un amministratore all'interno del nostro corso il corso demo attività Moodle all'interno delle impostazioni del nostro corso sulla finestrella di altro troveremo chiaramente una voce di menu che si chiama restrizione di accesso al corso cliccandoci si viene spostati su questa pagina la pagina appunto vi darà una serie di opzioni intanto definire se la restrizione è attiva o non è attiva e quindi diciamo noi la possiamo programmare in maniera anticipata senza tenerla attiva e quindi permettere sempre diciamo l'accesso al momento in cui viene attivata la restrizione possiamo decidere tutta una serie di opzioni definire se utilizzare le date di apertura o chiusura del corso in questo caso il corso aprirebbe il 5 ottobre 2022 chiuderebbe il 1 ottobre 2023 se non ci troviamo all'interno di queste fasce temporali e la restrizione è attiva chiaramente l'accesso sarà non consentito quindi possiamo scegliere se utilizzare l'apertura e la chiusura del corso scegliere se utilizzare il gruppo di corsi poi lo vedremo in un secondo momento decidere appunto se utilizzare o meno il calendario delle festività e quale calendario proveniente appunto da tutti gli stati del mondo andare a utilizzare e soprattutto decidere se impostare o meno un orario giornaliero per default chiaramente normalmente è impostato sul no al momento in cui viene attivato la prima voce in cui dobbiamo decidere è se il lunedì il corso è aperto o meno se il corso è aperto dobbiamo decidere se c'è una pausa pranzo e quindi decidere l'orario di apertura per il lunedì mattina dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18 il martedì stessa cosa decidere se il corso è aperto o meno se esiste la pausa pranzo e a questo punto decidere se l'orario di apertura è quindi dalle 9 alle 13 dalle 14 alle 18 il mercoledì per esempio decidere che non esiste una pausa pranzo e quindi l'orario di apertura del nostro corso è ridotto dalle 9 alle 12 il giovedì uguale cambiare l'orario dalle 9 alle 18 venerdì stessa cosa dalle 10 alle 14 sabato e domenica in questo caso l'orario è chiuso nel senso che il corso non è fruibile il sabato e la domenica salviamo le modifiche a questo punto l'utente che non ha privilegi amministrativi o privilegi di teacher e quindi diciamo lo studente quando si autenticherà dovrà rispettare queste specifiche questi specifici orari di apertura e di chiusura ora chiaramente in questo momento se io adesso andrò ad autenticarmi con il mio utente, con il mio studente il corso risulterà attivo proprio perché mi dirà che mancano ancora 42 minuti alla sua conclusione se invece noi andiamo a modificare le restrizioni di accesso e quindi per mercoledì definiamo che l'orario di apertura e di chiusura era dalle 9 alle 11 salviamo le impostazioni cambiamo l'utente con cui andiamo a visualizzare la nostra pagina eccolo qua il corso chiaramente non è accessibile non è accessibile proprio perché non posso accedere non sono all'interno di queste fasce orarie qui mi viene elencato chiaramente l'orario di apertura e di chiusura dei nostri orari qui chiaramente anche la data di apertura e di chiusura una piccola descrizione le festività nazionali se io provo a tornare al corso e quindi diciamo di tornare alla nostra pagina che appunto è il corso i V26 chiaramente il sistema non ci permette e ci riporta all'interno della nostra pagina come vi spiegavo chiaramente la possibilità di attivare anche quelli che sono i gruppi di corso è possibile facendo semplicemente all'interno delle azioni quindi andare all'interno delle impostazioni del corso all'interno della sezione degli utenti gruppi definire dei gruppi all'interno del corso quindi creare un nuovo gruppo lo chiamiamo gruppo C appunto voi andrete a inserire i vari utenti all'interno dei nostri gruppi di corso tornando alle restrizioni di accesso del corso come vedete in questo caso abbiamo utilizzato il gruppo di corsi e possiamo ridefinire all'interno di ogni gruppo i vari le varie restrizioni di accesso e quindi definire per esempio che il corso potrebbe essere aperto dalle ore alle ore per il gruppo C e quindi definire che il lunedì il gruppo C può accedere dalle 12 alle 14 il gruppo A a definirlo invece che il corso è accessibile dalle 17 alle 21 per il gruppo B invece decidere che magari invece il corso è chiuso e quindi diciamo il gruppo C non può entrare all'interno del corso questo diciamo è in semplicità il funzionamento dello strumento diciamo che si sviluppa in questa parte configurativa da parte dell'editing teacher da parte del docente o dall'amministratore e per quello che riguarda lo studente la possibilità di accedere o non poter accedere sulla base degli orari che sono stati definiti grazie Marco grazie mille è stato rapido e penso anche sia andato subito al punto quindi a questo punto apriamo la possibilità da parte del pubblico di fare le domande allora Paola che saluto chiede come gestire la partecipazione nelle professioni con turni variabili io credo Marco che forse questo può essere indirizzato col discorso dei gruppi dei gruppi sì ecco che magari possiamo possiamo vedere sì se vogliamo lo facciamo rivedere sì anche perché vedo che già altre domande chiedono proprio la parte di gruppi allora noi in questo caso ci troviamo all'interno di un corso nel corso abbiamo definito i nostri utenti nella sezione degli utenti i nostri gruppi e quindi diciamo il gruppo di i gruppi di corso chiaramente posso creare un gruppo che si chiama professionista IT se fare le modifiche posso definire un nuovo gruppo e lo chiamiamo professionista agitato salva a quel punto andare a inserire le i partecipanti all'interno dei gruppi correggimi se sbaglio perché Andrallo sai che io su questa cosa sono sempre un po' più inserisci i partecipanti all'interno dei gruppi esattamente quindi diciamo prendere il signor Mario Bianchi andarlo a inserire all'interno del professionista architetto piuttosto che turno A o turno B va benissimo a turno B eccetera quello che sia la sua partecipazione e dopodiché a quel punto andare all'interno della restrizione di accesso del corso definire qual è in questo caso il nostro gruppo di interesse e quindi definire se per esempio per il professionista architetto mercoledì dire che il corso è aperto dalle nove alle undici salvare le impostazioni e quindi diciamo il concetto diventa il gruppo C può entrare il mercoledì tutto il giorno il gruppo professionista architetto può entrare il mercoledì solo dalle nove alle undici e così via e quindi diciamo di differenziare ogni gruppo sulla base delle turnazioni io immagino anche una situazione magari più diciamo magari manifatturiera dove comunque hanno dei turni di fabbrica ma anche le professioni sanitarie grazie Andrea giustissimo le professioni sanitarie che è ancora più facile come esempio e quindi fanno il turno della mattina dalle otto alle dodici poi c'è il turno pomeridiano che fa dalle dodici alle sedici il turno serale che fa dalle sedici alle venti e quindi diciamo creare in base appunto alle professioni sanitari in base ai gruppi e alle orari di lavoro e il gruppo di appartenenza definire delle degli orari di accesso poi Paola chiede se una persona cambia turno deve essere sposata di gruppo beh sì perché chiaramente a meno che non ci sono strumenti che in questo momento si interfacciano su un sistema di gestione dei turni e quindi è chiaro che deve essere sposata a mano approfitto nuovamente per ringraziare Marco Gianfranchi di Star T e il suo staff per il testing e anche l'indicazione di alcune caratteristiche nella fattispecie l'idea dei gruppi che poi è quella dei turni e bene se tutti avete risposto vi ringrazio nuovamente per essere stati presenti a questo MT Webinar Series e appuntamento al prossimo webinar che vi sarà annunciato come sempre tramite newsletter grazie mille e a risentirci presto